L'index della Fiorentina scalda l'Artemio Franchi e segna un gol che ha un valore storico è il gol numero 700 segnato dalla Nazionale in Italia e il merito è di Giampaolo Pazzini Sì, molto bene, abbiamo visto che li allarghiamo a destra, li allarghiamo a sinistra e poi dopo una palla in verticale così siamo stati fortunati che la respinta è rimasta là e Pazzini è stato il più lesto ad approfittarne Bello, secco sicuro, facile e adesso vedremo se la Slovenia uscirà fuori Vedremo la reazione adesso della Slovenia Gol numero 700 nella storia della Nazionale, quello segnato da Pazzini, 700 gol in Italia ovviamente Pazzini aveva già segnato al Montenegro nel marzo del 2009 Grazie a tutti Grazie.